Occhio in alto Occhio in alto Occhio in alto allenamento finito inizia la vera battaglia Quando usciamo vediamo quanto ce la facciamo a uccidere la gente Dov'andiamo ragazzi? A qualcuno serve questa roba? Occhio in alto Occhio in alto Occhio in alto Occhio in alto 100 in 100 100 in 100 Possiamo cambiare andare fuori Io sto scendendo qua Occhio in alto Intanto lui è qui Occhio in alto Occhio in alto c'è un nemico nemici laggiù bravo con un'esca vedo un movimento va dentro sta uno vedo un movimento eccolo è a terra a terra sono stata indimidita si vabbè ma c'è il cecchino già ma che sta chi è a terra chi è a terra io 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 ti rianimo dove sei vieni qui stai guardiam stai dentro guido io guido io aspetta maledetto infame non lo posso fare stai benone vieni con me ma vai amma stati ma non è possibile non è possibile ho fatto due uccisioni maledetto che palle guarda è ora di combattere ma non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile ma non è possibile compagno di rientro no di team rientra dal gulo scontro sta iniziato eh beh qua non devo più per gli sciaperti preparati bene devo stare un problema mi sto incalzando guarda vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco elimina il nemico o conquista l'obiettivo eh ma vai affanculo cazzo ma vai affanculo dio porco uff non è ancora finita il tuo team può pagarti la cauzione vai girami i coglioni sulla cauzione attenzione un membro del team è diventato un bersaglio ricercato proteggendolo voglio pilotare io ok vado no secondo me la cosa migliore sarebbe andare sulla montagna se non c'è nessuno sempre l'unico modo per salire è ma vai affanculo No, 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 no. C'è tu hai fatto un'uccisione e c'è 450 di punteggio e dei danni 331. Io ne ho fatto due dal tetto, brutti e maledetti. C'è? 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 Qua c'è un'altra. Vieni vieni mi fai incazzare. No ... lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo c'è un approvvigionamento c'è un passo come fa gas in arrivo, zona sicura riposizionata io dopo prendo io non ho preso quant'altro no no io lo prendo dopo direttamente ho gianto aiuto 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 ho fatto la stanzata aiuto cosa faccio adesso devo fuggirne non lo sto rettando, non lo fare, l'ammazzo non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio manca uno manca uno, la corona l'ho fatta anche uno mi dice che questa è un 27% 4 metri, sta qua , sta fondando ten거� det archetype al ecco la dentro, la dentro del coso è dentro, dentro in fondo perché sono morto lì più a terra, ti ho eliminato a te ah, cazzo eh, non lo so che non lo prendo dopo eh, io sono morto con un cretino, mi qua dentro sono morto eh, qua no, mi sa giù in fondo che sono morto è la maschera, verrà tutto questo stazione medica, può servire stazione medica, può servire se non volete andare lì, non andate stazione medica, può servire stazione medica adesso, io non ho armi, adesso che ci penso eh, vabbè mi toccherà scendere lì a prendermi eh, a prendo lo shop per non prendere il suo villo ma che cazzo di senso? fizzato per il marzo guarda, io vado un attimo all'aereo a prendermi le armi se non c'è nessuno secondo voi c'è qualcuno? ma direi che l'anno dovrebbe essere senti vabbè ce l'ho ammazza non pa' siente ma non sono da solo ma come cazzo le personizza le armi? mamma mia che schifo di armi che ha personizzato questo è uguale a questo ma come cazzo gioca la gemma? come cazzo gioca con la milanza si è, ferma c'è il grau là la c'è il grau è un attitato guapi nemico in volo serve a qualcuno? serve a qualcuno? soldi soldi in cazzo ma hai trovato i soldi? cazzo in arrivo, zona sicura riposizionata ancora se manco a pagarne ecco la ah mi puoi da mettere i miei reflots ah mi puoi da mettere i miei reflots ah mi puoi da mettere i miei reflots ragazzi bisogna prendere il layout così c'è un nuovo fantasma si sarebbe meglio faccio lo shop sanito guarda guarda mi nemico in volo dove fai lo shop? sistema troppo in uso in movimento aspetta che non so da dove salire adesso ma ecco ok dovete lasciare soldi a uno uno solo devo andare a scendere dovevate i soldi mi andate sto perdendo terreno io prendo uno di io ho quasi soldi io prendo uno di datemi datemi 3000 poi la si spara mi spara non addosso avanti qui phoenix 3 ricevuto ho lanciato il bombardamento ragazzi ci sono anch'io qua io sono qua non ho visto dove stanno eccolo è entrato dentro è entrato dentro uno a terra è segnato ce ne sono due pure dalla casa ce ne sono due pure dalla casa che stanno seguendo la cosa lo stanno proprio in seguendo guarda che c'è bombardamenti ci sono qualcuno ha ucciso qualcuno e uno l'ho ucciso io qua sotto uno l'ho ucciso io ce ne era uno fuori col cecchino stazione medica può servire successo ok eliminato vedi ci sono i miei soldi qua ci sono anche le mie armi quindi vediamo quanti soldi ho ancora milla e quattro ne ho ancora possiamo comprare qualcosa o no ragazzi prima di me la cazzo però ci ho dato un po' ma ci ho dato un po' allora la sopra ci fa questa la sopra la sopra la mia pagina tutti un d'accordo un d'accordo c'è gente sa un lancio d'equifaggiamento c'è gente con la quattro parte vabbè per metterci per certo gas in arrivo zona sicura riposizionata la mia pagina non è che avevo schifffato l'animazione io manco quello che mi posso permetter dobbiamo passare adesso fai da sinistra fai da sinistra vado da questa parte c'è una cerchina però non stiamo in andando andiamo con la tavola facciamo una cerchina da dietro siamo nella zona sicura i nemici stanno arrivando ok raga ho presunto dei soldi ritraglietta qui serve a qualcuno? io vado di la dov'è? è un altro mondo ora come c'è più avanti lo so ma capili ma capilli ma capilli non è di merda cosa? se c'è qualcuno lo smonta ma cazzo ancora non croz ma mi devo andare a trovare compro l'uav si e chi è? uuuu stiamo parlando, dove sto io? stai a fare necessario oh vabbè dove va? è vero che c'è la campanella gas in arrivo alla nuova zona sicura no tu non mi hai dato lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo la taglia si sta avvicinando ecco il taglio taglia eliminato, ben fatto devo avergliela proprio tirata andiamo a prendere il grau tra di oh 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 chi che andrà prendere il grau ma vai tranquilo se muovi cazzo mia tranquilo arriva il gas in movimento andrà andrà ecco 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 발 il bersaglio è lì ehi a aspetta tanto sto finendo raga guarda che sono tutti i campanitili quando c'è lì qua caserna caserna 1 uno l'ho scoperchiato mi ha fatto talmente tanto male ci camperiamo qui si tanto adesso quelli lì sopra scendono qualcuno rompa il tuo vetro nuova zona sicura contrassegnata rompilo se no non vedo c'è c'è da capo che c'è sta cazzo di casetta c'è da capo se no era buono come siamo messi oh 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 mi ha lasciato affiancarno a noi ne restano meno che ieri ci sei vicino vedo movimento c'è da capo che è un'altra cosa la mia l'agg la c dobbiamo raggiungere subito la zona sicura se in cento tu e dietro ok eh l'hai visto? oh avvi nemico il volo si abbassano! contatto acchia dove spari cazzo ah 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 eh vai tranquillo basta eh vai tranquillo basta gas in arrivo alla nuova gioca sicura sono lì ho ammarcato dell'equipaggiamento i salvi qua sono a me ha preso fanno entrare, fanno entrare ma nono 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 che è qua? giù, 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 giù giù, 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 giù giù, giù, giù non è ora di morire forza ragazzi hanno crepato tutti ci serve andiamo ci sono anche a ferire se ci riesci aiuto non non sono i bastardi no dai che cazzo ma che cazzo che colpi è questo cos'è è liberato dai cazzo era ora che abbiamo fatto raga arriva l'abbà arriva Grazie a tutti.